Leggo il Salmo 127-126 Se il Signore non costruisce la casa, in vano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, in vano veglia la sentinella. In vano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Perché ho letto questa parte, ecco, in metà del Salmo? Perché ci introduce bene, poi lo riprenderò questo Salmo, ci introduce al tema che vorrei affrontare con voi in questo momento così di contenuto per il ritiro. E vi comunico un po' quello che anch'io sto maturando in questo tempo, che per me sta diventando sempre più fondamentale, ecco, non capire, non comprenderlo tanto, ma in quanto viverlo proprio nel mio quotidiano. E cos'è che sto maturando? Il fatto che rischiamo, sento che rischiamo, che rischio, e quindi penso che rischiamo un po' tutti, soprattutto nella vita religiosa, di vivere in maniera distratta, di vivere in maniera inconsapevole. È curioso come nelle tradizioni non cristiane, quindi di altre religioni, di altre tradizioni, tutto questo, questa dimenticanza, distrazione, venga chiamata ignoranza, e di conseguenza peccato. Ecco, quello che noi chiamiamo peccato nelle altre tradizioni viene chiamata proprio inconsapevolezza. Vivere nel peccato significa vivere nell'inconsapevolezza. Noi purtroppo abbiamo fatto del peccato una questione morale, moralistica, ecco, però è molto di più il peccato. Il peccato vuol dire, vivere nel peccato significa vivere lasciando che la vita scorra senza accorgersi che stiamo vivendo. In greco sapete, o meglio nella lingua dei Vangeli, che il greco peccato viene usato sempre, viene tradotto con il termine amartia, ecco, amartia che significa proprio letteralmente mancare il bersaglio, ma per estensione significa prendere una strada sbagliata, quindi errare. Ecco, il peccato è errare, cioè girare a vuoto, essere inconcludenti. E credo che sia la sensazione di molti di noi quella di di darsi molto da fare anche per cose belle, cose importanti, ecco, però arrivare magari alla sera e dire non ho concluso nulla, sentire che si è errati proprio. Vivere un po' fuori con la testa, con la mente, con il cuore, vivere centrati. il buddismo ha un'immagine, ha una parola che si rifà, un'immagine, proprio richiama un carro che con le ruote fuori asse, è un'immagine che rende molto, ecco, ovviamente procedere con un un carro con le ruote fuori asse significa che prima o poi andrà a schiantarsi. O comunque chissà dove va. Ecco, l'erranza, l'errare. Il rischio che percepisco, ecco, sempre di più anche in certi ambienti è quello di fare tante cose, molte azioni, dicevo prima, impegnarci anche, di affaticarci anche, ma mancando il bersaglio, colpendo l'aria in qualche modo. Cioè, i nostri sforzi sono inconcludenti, non portano da nessuna parte. Ecco perché ho iniziato con questo salmo che a dirci che probabilmente questa sensazione di procedere con le ruote fuori asse è una sensazione che è che anche i più antichi hanno provato. In vano si affaticano i costruttori, in vano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare. Ecco, lo stesso tema viene ripreso rimanendo in ambito biblico anche dal Coelet all'inizio, proprio l'incipit di Coelet che sono le parti più famose. Quando Coelet scrive vanità delle vanità dice Coelet vanità delle vanità, tutto è vanità. quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il so. Ecco, Coelet ci riporta la realtà, ci riporta alla verità della nostra vita, cioè ci sta dicendo che tutto ciò che facciamo è fitto di conti e vanità. Ecco, ma anche le cose buone che poi è tradotto malissimo perché non si dovrebbe tradurre vanità, si dovrebbe tradurre in ebraico c'è impensabile che un ebreo potesse pensare alla vanità perché è un termine prettamente occidentale ancora molto moralistico e andrebbe tradotto con vapore vapore tutto è vapore ma anche le cose buone quindi l'impegno apostolico per noi la cura agli ammalati l'amore fraterno l'amore sororale ecco, per fare il paio con fraterno tutto è vanità dice il Coelet c'è per un momento e per un momento è importante ma poi svanisce ecco a questo punto sorge la nostra ignoranza pensiamo che tutto ciò questo nostro impegnarci questo nostro darci da fare questo nostro alzarci presto andare a letto tardi essere efficienti anche in cose buone ecco sia la nostra realtà questo vuol dire vivere nell'ignoranza perché non è questo l'essenziale questo non è sufficiente ci illudiamo che stiamo vivendo la nostra vita autentica allora che cos'è la salvezza a questo punto? la salvezza è uscire da questo stato di ignoranza uscire dall'idea che basta darsi da fare che basta fare le cose che basta vivere bene che basta riuscire ecco non è questa la vita questi sono degli aspetti della vita ma che passano presto evapore e non rimangono queste cose chi è avanti negli anni si accorge che è tutto evapore veramente allora abbiamo ascoltato la tradizione sapienziale con i salmi con Coelet ma queste cose le ha dette Gesù che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria vita ecco io credo che non ci sia domanda di Gesù sapete che Gesù fa tantissime domande nel porge tante domande nel Vangelo ecco ma questa credo che sia tra le più alte le più più forti più importanti e imprescindibili domande che giovamento c'è nel guadagnare il mondo intero se poi perde la propria vita proviamo a tradurre anche se possedessi tutto anche se godessi di tutte le cose belle importanti della vita anche se fossi bravo nel mio lavoro nella mia congregazione raggiungessi anche obiettivi belli grandi e anche se attirasse al Signore donne e uomini per la sua gloria Gesù dice ma cosa ti giova tutto questo se poi perdi la tua vita il salmista direbbe cosa sarebbe se il Signore non costruisse la casa allora cosa facciamo un passo ulteriore cosa intende Gesù quando dice perdere la propria vita o il salmista cosa intende per casa se il Signore non costruisce la sua casa allora qui bisogna fare un passaggio importante prima tradurre in questo modo che giova infatti all'uomo guadagnare cioè raggiungere vivere tutte queste cose anche grandiose se poi perde il centro l'essenziale se poi perde quel nucleo incandescente che ci portiamo dentro che ci fa essere pienamente noi stessi che ci definisce capite guardate che qua la cosa è molto importante perché il Coele ti dice tutto è vapore tutto passa ma cosa rimane quando tutto passa è la casa a cui fa riferimento il Salmo è la vita a cui fa riferimento Gesù che in un altro modo potremmo esprimerci non è altro che il Regno di Dio il Regno di Dio è proprio questo centro questo nucleo fondamentale che ci portiamo dentro che ci dice chi siamo allora cerchiamo di capire questo stando alle tradizioni spirituali non soltanto cristianesimo perché guardate che tutte queste cose che sto dicendo sono fondamentali anche per le altre tradizioni allora la spiritualità la spiritualità da che mondo è mondo ci dice che c'è la vita con la v minuscola la vita quella che noi viviamo identificata appunto con il lavoro la posizione sociale i nostri titoli l'essere consacrati l'essere suora l'essere a capo di un servizio e questa è la vita la vita quotidiana la vita che che è tutto vapore ma poi ci dicono le tradizioni compreso Gesù che poi c'è la vita con la v maiuscola cioè il centro che non può essere neanche definito che Gesù prova a chiamarlo regno di Dio ecco che lo chiama vita ma la cosa interessante è che questo centro il Vangelo continuamente ci dice che succedesse qualsiasi cosa anche se tutto il resto evaporasse questo centro incandescente rimane questo centro incandescente che rimane la roccia il fondamento il nostro vero sé Dio regno di Dio chiamiamolo come vogliamo non dipende da nulla di ciò che io sono e io faccio dunque la domanda che dovremmo porci e io vi faccio questa domanda all'inizio del periodo d'avvento abbiamo appena iniziato ma serve per la vita in realtà ma visto che c'è un ritiro la domanda che Gesù ci fa che dovremmo porci ecco se smettessimo di essere distratti e se vincessimo l'ignoranza la domanda che dovremmo farci è questa di quale vita voglio prendermi cura cioè il mio tempo le mie energie le mie forze le dedico a quale vita anzitutto alla vita che è destinata a evaporare ma anche cose belle abbiamo detto importanti oppure a questo centro cioè alla vita con la V minuscola o alla vita con la V maiuscola spero che la domanda risuoni retorica ovviamente la risposta è Gesù ci invita a prenderci cura della vita con la V maiuscola Paolo San Paolo lo lo dice in un certo senso ecco Paolo ha questi sprazzi così di profondamente mistici voi ne sapete qualcosa meglio di me ma quando dice in Corinzi 13 dessi anche il mio corpo ad essere bruciato dessi tutte le mie sostanze parlassi le lingue degli uomini quindi parlassi anche bene ecco tutte queste cose bellissime bellissime martirio povertà abnegazione cosa gioverebbero tutte queste cose non avessi la carità cioè non traduciamo non non mi curassi della carità dell'amore di questa pietra fondante fondamentale di questo regno di Dio che ci portiamo dentro di questo principio fondativo che ci portiamo dentro a cosa gioverebbe e la traduzione di ciò che Gesù diceva prima in Marco a cosa serve a cosa giova se l'uomo conquistasse anche cose grandiose ma poi perdesse questo centro la vita con la V maiuscola c'è un altro passo in Matteo 6 19 dove Gesù dice questa frase che è conosciuta non accumulate tesori sulla terra dove tignola ruggine consumano dove ladri scassinano rubano accumulate piuttosto tesori nel cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano ovviamente qui dobbiamo rendere Gesù qui indica con terra fa separa terra e cielo cioè per Gesù la terra rappresenta appunto l'impermanente il transeunte tutto ciò che è destinato a passare mentre con cielo in quella categoria antropologica ecco a cui si rifà Gesù cielo simboleggia ciò che rimane ciò che rimane lì autentico il vero sé l'unica cosa necessaria in qualche modo ecco non accumulate non datevi da fare ad oltranza soltanto per ciò che è destinato a finire ecco allora è su questo che vorrei che mi sto veramente interrogando in questo tempo dove tutto è ridotto a corsa dove tutto è veloce dove tutto è fast dove tutto è alla fine distrazione dove tutto ci manca non sappiamo più dedicarci io parlo per la vita soprattutto veramente consacrata non sappiamo più dedicarci a ciò che è destinato a rimanere illudendoci che dedicandoci alle cose esteriori belle anche pensate Paolo dare addirittura il proprio corpo ad essere bruciato perché non sta lì è un inganno questo è un inganno allora Gesù ci invita veramente e prendiamo e sentiamolo proprio come invito prendiamoci a cuore l'unica cosa necessaria l'ho detto in un video ho fatto forse l'Omeria della prima domenica d'avvento avevo citato un passaggio che ho scoperto nella letteratura alchemica antica dell'antica arte dell'alchimia ecco in un libro del 1600 viene usato un termine cioè gli antichi alchimisti erano alla ricerca dell'occultum lapidem l'occultum lapide che sarebbe la pietra nascosta e in questo testo antichissimo siamo nel 1613 c'è un passaggio dove viene detta una parola che è un acrostico in realtà cioè una parola la cui iniziale ogni lettera è una parola è l'inizio di una parola qui l'acrostico sapete è questo e la parola è vitriol vitriol dove vi leggo per esteso ogni come suonerebbe la frase se potessimo svilupparla tutta la vi sta per la i per questo ti per questo ecco in latino perché il libro è scritto in latino la frase vitriol per esteso suonerebbe così ve la leggo in latino poi la traduco visita interiora terre rectificando in venies occultum lapidem che potremmo tradurre così visita l'interno della terra operando con rettitudine e troverai la pietra nascosta io l'ho trovata illuminante questa frase l'ho trovata illuminante perché siamo al centro del Vangelo capite tutte le sapienze antiche anche quelle più nascoste come l'alchimia come riportano alla necessità di tornare al centro ritornare dentro di noi di avere di fare un cammino centripeto cioè non centrifugo non verso fuggire sempre verso l'esterno ma avere anzitutto la capacità la possibilità l'intelligenza spirituale di tornare verso il centro dedicare tempo energie forze al proprio centro perché lì è nascosta la pietra su cui tutto si può fondare la pietra nascosta la pietra nascosta vera medicina autentico rimedio al male di vivere quindi scendere nell'interiore interiore a terra per dirla con questa frase appena ascoltata significa entrare nella parte più profonda del proprio essere e lì scoprire l'unum necessarium l'unica cosa di cui c'è bisogno guardate tutte le tradizioni vanno in questa spirituale in questa in questa direzione ovviamente anche il cristianesimo quando Agostino quindi andiamo veramente all'inizio della tradizione cristiana quando Agostino nel suo testo la vera religione scrive noli fora sire in te ipsum redi in interiore omine abita veritas cioè non andare fuori di te non vivere sempre di strato rientra in te stesso e nel profondo dell'uomo che risiede la verità Maester Eckhart grande mistico del del duecento scriverà chi vuole penetrare nel fondo di Dio in ciò che ha di più intimo deve prima penetrare nel suo fondo proprio in ciò che esso ha di più intimo in effetti nessuno può conoscere Dio se prima non conosce se stesso capite se non si vive questa profondità se non si vive a questi livelli se non ci si prende a cuore il proprio mondo interiore se non si dedica ad esso tempo energia spazio questo vuol dire silenzio vuol dire stare significa buio anche oscurità deserto ecco chi non vive questo non si illuda di prendersi a cuore o cura di qualcosa all'esterno non nessuno può conoscere Dio se prima non conosce se stesso dice Eckhart quindi prendersi cura del regno di Dio che come dice Gesù in Luca 1721 il regno di Dio è dentro di noi è inutile costruire il regno di Dio fuori di noi attraverso un'attività magari apostolica forsennata che dissangua soltanto energie e abbiamo sempre più consacrati consacrate preti che non ce la fanno più basta vedere in giro come siamo ridotti perché sono tutti veramente esausti c'è tra l'altro un abbandono di preti che impressionanti perché dicono questo non è vivere ecco ecco perché perché appunto siamo tutti estromessi viviamo da estromessi siamo sempre fuori di noi in interiore omine habitat veritas quella frase di prima visita l'interiore visi interiore visita interiore a terra ma Gesù vi ricordate quando in Matteo 13 44 dice il regno dei cieli a cose è simile è simile a un tesoro nascosto pietra nascosta in un campo guarda caso in un campo dentro il campo un uomo lo trova questo tesoro poi va pieno di gioia vende tutto vende il suo ego vende le sue proiezioni i suoi pregiudizi vende i propri attaccamenti perché capite poi torna e compra quel campo dove c'è il tesoro nascosto ma per capite perché facciamo così fatica a entrare a perderci in questa interiorità a stare lì magari anche nel perché stare col proprio centro in silenzio può darsi che non si senta nulla che ci sia anche aridità ci sia il deserto ma certo perché il seme non sarà contento di stare lì sotto terra al buio ma è l'unico modo per poter sbocciare il feto sta di nove mesi al buio eppure è l'unica condizione per poter venire alla luce capite tutte le cose che devono e vogliono venire alla luce devono prima conoscere il buio il deserto l'aridità il seme marcisce sotto terra ma cosa cosa succede a noi perché non vogliamo vivere quella condizione di nascondimento di distacco ma perché anche le opere esteriori possono darci molta gratitudine ma tutta la tradizione mistica ci dice che dobbiamo morire a questi attaccamenti se il seme stesse all'aria aperta la luce continuamente o le radici dell'albero stessero sempre lì fuori capite che sarebbe tutto destinato alla morte ora tutto questo viene raccontato riassunto benissimo in quel passaggio e sembra Gesù veramente se leggiamo il Vangelo in questa prospettiva Gesù è come se continuamente battesse su questi tasti c'è un passaggio conosciutissimo quando Gesù va a Betania da questa famiglia a lui cara quella di Marta e Maria e di Lazzaro trova Marta indaffarata in molte cose siamo in Matteo 10 trova Marta indaffarata in tante cose tutte cose buone lei stava facendo da mangiare stava servendo Gesù quindi noi da buoni religiosi stava servendo il figlio di Dio quindi qual è l'opera più grande che servire il figlio di Dio ecco no però non viene proprio trattata benissimo da Gesù la rimprovera e dice Marta Marta ma cosa fai? ti agiti capite la tua vita si è ridotta d'agitazione facendo cose sante belle buone tua sorella ha scelto l'unum necessarium l'unica cosa destinata a durare perché tutto il resto è vapore l'unum necessarium la pietra nascosta il tesoro nascosto mi piace pensare che Marta e Maria in realtà non siano due sorelle ma siano lo sviluppo del discepolo di Gesù quindi Marta è chiamata da Gesù a fare un cammino a uscire dall'ignoranza a uscire da questo schematismo devastante e fare un cammino lento per arrivare a essere Maria quindi Marta e Maria non due personaggi diversi ma lo sviluppo interiore del discepolo ecco della discepola questo mi piace pensarlo così anche perché Marta capite malgrado stesse facendo cose buone giuste sante pie si prende il lusso di rimproverare tutte rimproverare Gesù rimproverare la sorella sta dicendo tutto fuori dalle righe sta dicendo ma io sono la migliore io sono la migliore ma certo perché se perdiamo il contatto con il nostro centro con la verità con questo fuoco incandescente allora tutto quello che faremo sarà impazzito in qualche modo porterà il peso del mio e dell'io e le cose che diremo saranno sempre alla luce dell'io e del mio giudicheremo gli altri alla luce del nostro io e del mio e avanti così c'è bisogno di stare come le radici come il seme a costo anche di piangere a costo anche di di non ricevere applausi di non ricevere riconoscimenti voi che vi dedicate alla parola io mi chiedo una parola che non è fecondata dal silenzio non è fecondata dal buio non è fecondata dallo stare non è fecondata che parola volete che sia quella parola pronunciata agli altri cioè se la parola non viene fecondata nel grembo dell'interiorità saranno soltanto chiacchiere e la gente delle chiacchiere non ne può più soprattutto sedete dalla chiesa infatti non c'è più nessuno che ci segue perché sono stanche di chiacchiere soprattutto pronunciate nelle chiese parole vuote parole insensate e insulse vanno altrove trovano più senso in parole di cantanti i giovani parliamo di giovani che ovviamente in quello di suore e preti su questo non c'è dubbio ma certo perché hanno bisogno di essere fecondate queste parole e guardate non sto parlando della preghiera non vuol dire pregare di più perché pregare di più può essere ancora sprecare parole perché pregare non vuol dire dire preghiere c'è ancora la preghiera parolaia la preghiera verbosa non verbale verbosa la preghiera che non lascia spazio che non conosce il silenzio che non c'è la preghiera che non conosce l'aridità non conosce lo stare è una preghiera che diventa l'agità guardate ci si può agitare tantissimo anche andando a messa anche dicendo le preghiere anche ci si può agitare in tantissimi modi non è questo è qualcosa di molto più profondo la spiritualità non ci dice di fare silenzio ci dice di diventare silenziosi che è tutta un'altra cosa diventare silenziosi quindi silenziare le parole silenziare le nostre preghiere verbose silenziare i gesti silenziare le immagini silenziare le nostre invocazioni silenziare questo nostro rapporto con Dio che molte volte si riduce a commercio chiedere domandare invocare come se lassù ci fosse una divinità che confondiamo con un distributore automatico ecco Gesù nell'episodio di Marta e Maria Gesù rimprovera Marta di essere dispersa disattenta quindi tornare al centro alla fonte a quella luce che illumina ogni uomo come dice Giovanni quindi dipende da noi quale impronta dare alla nostra vita c'è poco da fare o centrifuga o centripeta il seme ha scelto dove stare l'albero ha scelto dove piantare le radici dobbiamo farlo anche noi Taulero è un mistico vissuto nel quattordicesimo secolo un secolo più tardi di Meister Eckhart grande mistico anche Taulero scrive se non sei giunto in questo fondo non ci arriverai con un modo di operare esteriore non ti sforzare inutilmente una volta che hai vinto il tuo uomo esteriore entra nella tua interiorità entra in te stesso e cerca questo fondo non lo troverai nelle cose esteriori non le troverai nelle istruzioni nei progetti allora cosa dove ci porterà allora ma non è ecco stiamo attenti questo stare questo entrare in interiore a terra questo stare col nostro tesoro nel nostro campo interiore risiedere in questo fuoco incandescente stare nel buio dell'interiorità non è l'ultima stazione ovviamente è la condizio sine qua non perché possiamo cominciare a vivere in maniera feconda è il primo momento c'è un bel passaggio di San Benedetto nella regola quando parla i monaci e dice questa frase questo c'è questo versetto bellissimo della regola che dice tutto può essere epifanico perché Dio si manifesta in tutte le cose anche negli strumenti quotidiani grandioso Benedetto guarda caso che mette anzitutto prima del lavoro c'è l'ora c'è lo stare l'abitare e dice che se noi entrassimo in questa dimensione tutto può diventare epifanico fantastico epifania cioè tutto può diventare manifestazione di Dio cioè tutto ciò che noi vediamo lui stava parlando degli strumenti del laboratorio tutto può diventare manifestazione del divino quindi pensate stessimo in questa dimensione allora ogni persona ogni situazione ogni parola detta ogni pagina scritta ogni tutto diventerebbe incarnazione del divino epifania di Dio quindi la questione non è separare l'azione dallo stare cioè non è questione di separare vita contemplativa dalla vita attiva non è questo il discorso la questione è comprendere che è dallo stare che nasce l'azione la questione è chiederci con quale postura esistenziale agiamo nel mondo e chiudo con una citazione di un'amica raffaele raffaele in cui il mondo è là per prendere soltanto i piaceri senza curarsi d'altro a quella visione egocentrica di una relazione con il mondo in cui si fa guerra a chiunque si interponga al proprio desiderio di soddisfazione egoica chi rinuncia a tutto questo realizza la dimensione pura beati i puri di cuore del Rebbe Gesù non condizionata ad attaccamento e rifiuto in cui si vedrà Dio in ogni cosa in ogni persona e in tutto l'universo e in cui si realizzerà l'unità al di là degli opposti e grazie dell'attenzione e buon cammino di avvento a tutte